L'affa e la siccità di quest'estate sono entrate negli annali per la città di Forlì come uno degli scenari ambientali più negativi degli ultimi decenni. Eppure un risvolto positivo c'è stato, ovvero la riduzione della presenza di zanzare, sia quelle comuni che le tigre. Questi insetti, così fastidiosi per l'uomo, hanno infatti un gran bisogno d'acqua per la propria vita. Le uova vengono deposte in pozze e ori stagni per poi dischiudersi pochi giorni dopo. Ma le alte temperature di questo 2017 hanno facilitato il prosciugarsi di pozzanghere e rivoli stagnanti. A contribuire alla diminuzione delle zanzare è stata anche la campagna antilarvale nei luoghi pubblici e in quelli privati. Va ricordato che l'ordinanza comunale per il contrasto alle zanzare è valida fino al 31 ottobre, per cui chi non rispetta le prescrizioni rischia sanzioni fino a tale data. I cittadini sono dunque chiamati a proseguire nell'utilizzo di prodotti larvicidi e nell'evitare di generare ristagni d'acqua. In questi mesi il Comune è ricorso anche a prodotti biologici alternati a trattamenti con regolatori di crescita per bonificare i tombini e le bocche di lupo presenti su strada.